La saluto, benvenuta Alessia Gielmi, responsabile degli archivi del CNR. Buongiorno, buongiorno a tutti e buona giornata della memoria. Buona giornata della memoria a lei e a tutti gli ascoltatori, chiaramente. Volevo partire appunto da questo accordo, è stato firmato un accordo da una lunga lista di enti, c'è il CNR ma in prima fila c'è l'INGV, c'è l'Accademia dei Lincei, l'INAP e poi anche l'UCEI e la CER, un accordo appunto per guardare indietro in particolare alle cosiddette leggi razziali. Insomma ci può fare un po' un riassunto, mi sembra di capire che tutto parta da questa pagina della memoria che è stata lanciata dall'INGV. Sì esatto, è un'iniziativa nata lo scorso anno, capofila tra gli enti promotori e sicuramente l'INGV, in particolare il dottor Aldo Winkel che è un ricercatore, un paleomagnetista che apparentemente non c'entra nulla con questo tipo di progettualità ma è legato per questioni familiari a questa tragedia. Che cos'è la pagina della memoria? La pagina della memoria è un luogo virtuale dove l'INGV, come vi dicevo, a partire dallo scorso anno per la giornata della memoria ha cercato di mettere insieme, collazionare si dice in termine tecnico, testimonianze e documentazione di familiari anche dal punto di vista multimediale sul drammatico impatto delle leggi razziali nella comunità scientifica e accademica italiana. Effettuando questa operazione ci si è resi conto che questo è da sempre stato un filone poco indagato all'interno dell'ampio filone della repressione del nazifascismo per cui abbiamo deciso di federarci per poter ognuno all'interno del proprio ente effettuare degli scapi archivistici e tirar fuori le storie di questi oppressi. E volevo appunto anche un po' capire se, insomma, immagino che la risposta a questa domanda se dovessimo farla per bene durerebbe giorni e giorni, ma ci può provare a fare un po' una disamina di quale fu effettivamente l'impatto delle leggi razziali sulla scienza, cioè di che cosa stiamo parlando? Sì, parliamo di un odioso decreto, come io lo definisco, il reggio decreto del 17 novembre del 1938 che fu emanato e da quel momento in poi dal governo chiaramente fascista e da quel momento in poi eminenti personalità della scienza, giovani ricercatori, promettenti studiosi, uomini e donne furono arrontanati dai ruoli pubblici e dispensati allo stesso tempo dal servizio. Improvvisamente queste persone subirono dei decreti proprio firmati dai presidenti dei propri enti per cui vennero espulsi e vennero sospesi dal servizio, dallo stipendio, vennero espulsi anche dagli luoghi in cui prestavano lavoro, vennero praticamente tagliati tutti i ponti dal punto di vista scientifico ed accademico. Intere comunità scientifiche vennero dimezzate, distrutte e il progetto intende proprio raccogliere queste testimonianze crude che provengono spesso da archivi burocratici, i quali vanno letti in maniera un po' più approfondita perché ad un decreto di espulsione che parla in burocratese bisogna attribuire una valenza in realtà politica che era appunto la volontà di espellere quello scienziato, uomo o donna che sia, dal suo ambito scientifico. E ha citato appunto il fatto del coinvolgimento delle donne, mi sembra che questo sia un elemento particolare che spicca Winkler nel comunicato, parla proprio in particolare dell'esclusione di donne, come mai spicca in questo modo? Esatto, perché tra le persone allontanate diciamo dalle istituzioni culturali e scientifiche ci sono moltissime donne e questo dai primi risultati ce ne siamo resi conto immediatamente. Era una vita quella delle donne che partecipavano attivamente agli studi, alle accademie, nella società ebraica ed erano all'avanguardia rispetto alle consuetudini dell'epoca. Nella giornata della memoria, cioè oggi, il CNR ha creato una sorta di videoclip in memoria di questa orribile vicenda e abbiamo proprio preso a modello la biografia, una piccola biografia ricostruita di Anita Provenzal ed era una delle donne sulle quali ricadde il provvedimento di espulsione. Era figlia di Giulio Provenzal, chimico, celebre e divulgatore scientifico. Era una raffinatissima disegnatrice che improvvisamente, così come il pradere, solo perché appartenente alla razza ebraica, così si legge dai documenti, venne espulsa dal CNR, era una dipendente CNR. Sebbene sia stata poi nel 1944 rintegrata nei ruoli dell'ente, non si riprese mai più e si trascinò, lo si vede chiaramente dai certificati medici che rimpinguano il suo fascicolo personale, tutto questo malessere psicologico e psicosomatico che caratterizzò tutta la sua vita da quel momento in poi. Chiaro, chiaro, una di tante storie tragiche dell'epoca. Volevo chiudere questa intervista ragionando su qualcosa che lei già mi diceva, insomma fuori onda non è esattamente il focus di questa intervista, ma non posso fare a meno di affrontarla, visto che solo pochi giorni fa, andando a ragionare sull'effetto delle leggi razziali e in generale del regime fascista sulla popolazione rom e sinti, si citava il ruolo che alcune teorie, che adesso chiamiamo pseudoscientifiche, rispetto appunto alle differenze tra quelle che allora chiamavano razze. Insomma mi chiedevo se in tutto questo, in tutto questo percorso magari che viene portato avanti non si possa affrontare anche il ruolo della scienza nel perpetrare questi pregiudizi, ovviamente all'epoca, quindi non soltanto appunto l'esclusione di ricercatori, di accademici dal mondo appunto dell'Italia dell'epoca, ma anche insomma un po' una presa di responsabilità rispetto ad una parte del mondo scientifico che allora ecco portò avanti questo tipo di teorie. Guardi, la mia convinzione su questo è che la memoria ovviamente non ha un'importanza solo celebrativa, altrimenti durerebbe pochissimo il tempo di essere celebrata per l'appunto, ma soprattutto etica. E questo ovviamente vale per l'adesione al fascismo e a quello che c'era dietro, al carrierismo, alla follia insomma, che c'era dietro a questa corsa forse nata, al potere in tutti i livelli dello Stato e alla fascistizzazione di questo. Quello che noi pensiamo, anche se, ripeto, non è il focus come lei ha detto, è che nell'ambito della ricerca, come già sta emergendo da questi primissimi passi, si delineeranno sicuramente in maniera indiretta le responsabilità legate alla connivenza con il regime fascista di alcune, ma sono anche felice di dire che stanno emergendo nominative storie di scienziati e studiosi che invece fecero il contrario, ossia offrirono il loro contributo alla lotta all'oppressione nazifascista e così come anche alla resistenza. Chiaro, chiaro, bisogna ricordare entrambi gli elementi senza insomma seguire ciecamente soltanto una delle strade. Come dicevo il tema è infinito, potremmo stare qui a parlarne per ore, ma il tempo radiofonico stringe. Vorrei giusto chiedere se ce l'ha sotto mano insomma qualche contatto, qualche sito, qualche portale che possiamo andare a vedere per esplorare un po' questi temi. Esatto, vi segnalo la pagina della memoria che già esiste, si trova sul sito dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, che è appunto l'NGV che abbiamo già citato, www.pagina della memoria.ingv, e già si arriva nell'home page dove è tratteggiata la nostra idea, cioè quella di creare le pietre d'inciampo per la scienza e per la cultura. Da lì si parte con una serie di percorsi tematici che cominciano già a delineare il nostro lavoro. Benissimo, insomma, le fonti ci sono, molto facile raggiungerle. Grazie mille ad Alessia. Saranno molte di più tra qualche tempo. Speriamo, speriamo insomma. Grazie davvero alla nostra ospita, Alessia Aglielmi, responsabile degli archivi del CNR. Grazie, buon lavoro, alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.